Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, come hanno fatto i miei colleghi, i miei amici, anch'io ho creato gli abbonamenti al canale. Cominciamo a fare una premessa che secondo me è importantissima. Per chi non si vorrà abbonare non cambierà assolutamente nulla e praticamente il canale rimarrà così accessibile e senza problemi, insomma, non cambierà nulla. Ovviamente abbonandovi avrete dei contenuti, ovviamente, dei vantaggi. Cominciando, dunque, adesso vi spiego come saranno questi vantaggi. Chiaramente dipenderà dai pacchetti. Ho creato tre pacchetti, secondo me anche molto accessibili, perché come potete vedere poi basta cliccare su abbonamenti qui vicino e vedrete quanto effettivamente, secondo me, non è così, diciamo, una spesa pazza, no? Andiamo dunque a vedere i vantaggi che c'è da abbonamento abbonamento. Ricordo ancora che se non vi abbonate per gli iscritti non cambia assolutamente nulla. Quindi se siete iscritti e non intendete abbonarvi, non vi preoccupate perché il canale rimarrà sempre uguale. Chiaramente non potrete godere di questi vantaggi. Con il pacchetto bronze avrete i ringraziamenti nei video. Vi ringrazierò pubblicamente, personalmente, ogni volta che farò un video, non sempre, ma una volta a settimana almeno, in un video a settimana, vi ringrazierò per quello che fate, insomma. Per l'abbonamento, insomma. Anche perché, grazie agli abbonamenti, io vi vedrò che siete abbonati tramite i badge che ho qui. Pacchetto silver, ovviamente sempre ringraziamento perché avete anche quei vantaggi lì. Avrete tutti i collegamenti con i social media e delle live streaming riservate agli abbonati. Quindi farò delle live particolari dove potranno accedere soltanto chi è abbonato silver e chi è abbonato gold. Mentre per chi è abbonato gold c'è anche la possibilità di giocare con me, PlayStation o non lo so, quello se poi decideremo di volta in volta. e la live streaming con me, cioè io a giro vi inviterò in qualche live da me, farò una live specifica dove vi inviterò, inviterò questi abbonati gold e poi montaggi preliminari e gaff. Praticamente tutto quello che taglierò dalle varie live, tutto quello che taglierò dalle live reaction, cioè quello che non vedete, che non vedete normalmente, verrà regalato a voi e vi assicuro che c'è da ridere perché soprattutto quando si facciano le live reaction è veramente quello che taglio, a volte lo dico io per primo, è un peccato tagliarlo perché veramente è pazzesco, veramente ci sono delle robe incredibili. E dunque questi sono i vantaggi che avete abbonandovi al canale e che dire, insomma, secondo me, potete vederlo da soli, il prezzo è accessibile credo a chiunque perché ho messo dei prezzi veramente bassi proprio perché ho voluto per primo io invitarvi tutti a fare il gold ma non tanto perché ho tutto sto bisogno, è perché volevo comunque creare gli abbonamenti perché è importante secondo me creare questi abbonamenti ma anche perché mi piace tenere tutti i miei iscritti presi dentro e trattati non solo come iscritti o abbonati ma trattati come amici perché è quello che ho sempre cercato di fare, ho sempre cercato di volere dal canale YouTube perché ricordiamoci sempre che siamo una community ed è giusto secondo me creare queste interazioni sono sempre disponibili a qualsiasi chiarimento se qualcuno non volesse sapere ovviamente in mezzo a tutte queste cose ci saranno anche dei post della community che saranno solo esclusive degli abbonati questo già dal bronze anche chi farà bronze parteciperà comunque a estrazioni, concorsi che farò quindi assolutamente dovete dire la vostra e bronze, silver e gold avranno anche la possibilità di, non dico decidere per me ma veramente di avere un ruolo importante nel canale perché farò dei sondaggi riservati agli abbonati quindi che tipo di video vorreste con un bel sondaggio lo decidiamo insieme e quindi insomma secondo me è una cosa carina è una cosa carina e l'hanno fatto anche il mio amico Nino GFC Stenic mi è stato anche consigliato di farlo perché comunque è una cosa molto positiva secondo me questa e niente ragazzi io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video ovviamente sempre disponibile a qualsiasi chiarimento fino alla fine Forza Juventus